Ciao a tutti ragazzi, allora oggi siamo su Raibon 6 Sage, allora ragazzi innanzitutto sono soltanto una recluta, quindi vediamo cosa riesco a combinare dopo aver fatto più o meno una decina di partite e avendo poi le armi che abbiamo. Insomma, comunque al momento siamo nella fase difensiva, vediamo cosa riusciamo a combinare quest'oggi. Allora, innanzitutto con un po' di pratica che ho fatto ho visto che a volte conviene tipo farsi un buchetto per esplorare la situazione. Allora, mancano 5 secondi ragazzi, ok, vediamo se riusciamo a tenere sott'occhio la situazione qui ragazzi. Qui c'è qualcosa che frulla di continuo, non so cosa sia, attenzione ecco che si sta allargando lo scenario, controlliamo bene la situazione. Mi viene anche da abbassarmi ragazzi, allora vediamo se sbucca fuori qualcuno. Nel frattempo ragazzi mi sono fatto un po' di tutorial, sono arrivato, non mi ricordo a che livello, comunque ne ho fatte 7-8. Attenzione, controlliamo anche da quest'altro lato. Attenzione, stanno cominciando ad entrare ragazzi, stiamoci attenti, potrebbero sparare anche da qui in fondo. Attenzione, 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 abbassiamoci immediatamente. No, di fronte a noi, ci hanno seccato, così, questa volta siamo in attacco, andiamo subito a esplorare con il nostro drone per vedere dove si trova la bomba. Spero di trovarla al più presto, ok, allora, arrecchiamoci. Attenzione, il drone è alleato, ha trovato una bomba. L'ho trovata ragazzi, l'ho trovata al primo colpo, che culo. Ok, vediamo se riusciamo a rilevare qualche nemico. Eccoli qua ragazzi, eccoli qua, eccoli qua, eccoli tutti quanti qua, siamo riusciti a marcare quasi tutti, eccolo che adesso ci hanno distrutto il nostro drone. Eccoli qua. Attenzione, attenzione ragazzi, a testa in giù. Siamo un po' troppo scoperti adesso. No, cacchio, porca miseria ragazzi. Hai trovato la bomba. Bomba individuata. Ok raga, saliamo le scale con i nostri compagni. Cerchiamo di rimanere compatti, magari riesco a combinare qualcosa. Attenzione. C'è qualcuno che spara. Attenzione, ti copro io da questo lato ciccio. Attenzione. Attenzione. Accucciamoci qui ragazzi. Hanno sparato il mio compagno di squadra. Eh, preso! Preso ragazzi! Ok. Oh cazzo, c'è un altro là in fondo. Attenzione. Hai perso il disinnescatore. No! Ultimo match ragazzi. Questa mappa tra l'altro non l'ho mai fatta. Speriamo di riuscire a fare qualcosa di buono questa volta. Ok. Allora, andiamo subito alla scoperta del contenitore. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Vengono tutti da qua, quindi probabilmente non sarà qui secondo me la... Ecco qua che vedo i nemici ragazzi. Ecco i nemici. Attenzione. Attenzione! Contenitore trovato! Qualcosa riesco a fare ragazzi. Almeno i contenitori li trovo ragazzi. Ok, attenzione. Questo ci prova a sparare. Attenzione. Individuato. Individuato prima! Che mi ha distrutto. Ecco, mo so cazzi raga. Mo so cazzi. Eccolo di fronte a me ragazzi! Cazzo! Granata ragazzi. Io la lancio dentro! Anche lui me l'ha lanciato! Attenzione, attenzione. Sarà sicuramente più furbo di me. Mi ammazzerà sicuro ragazzi. Ci scommetto. Preso ragazzi! Preso! Uccisione! Ce l'abbiamo fatto il primo raga. Ok, carichiamo l'arma. Attenzione. Piazza la carica. RD attivo. Scansione perimetro. Devo ricaricare. Ok ragazzi. Carica. Stai attento. Attento che ce ne sono altri nemici ragazzi. Stanno ammazzando il mio compagno di squadra ragazzi. Vediamo se sbuca qualcuno da qua. Non si vede un cacchio! Non si vede. Round 1. Vinto! Bene. Proviamo a difendere la stanza. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa di buono questa volta raga. Ok. Allora. Io vorrei fare una cosa. Innanzitutto voglio esplorare bene la situazione. Qui potrebbero arrivare da tutte le parti. Quindi. Proviamo a sfondare questa zona. E vediamo se riesco a vedere qualche nemico. E sfondati. Ok. Cazzo. Vediamo se arriva qualcuno da questa zona ragazzi. Mi viene da abbassarmi anche a me. Mentre cerchiamo di controllare la situazione. Io rimango in questa zona ragazzi. Campero un po' da questa parte. Eccolo lì di fronte. No! Abbassati, abbassati, abbassati. No! Vediamo. Ragazzi ci proviamo. Di fronte a me ragazzi. Abbassiamoci di nuovo. Abbassiamoci di nuovo. Stanno sparando in continuazione. Vai al riparo, vai al riparo. Attenzione. Preso! E bella ciccio! Attenzione. Sta sparando a manetta, sta sparando a manetta. Imboschiamoci, imboschiamoci. Mi viene da spostarmi di brutto ragazzi. Vieni fuori. Attenzione! Sta continuando a spararci! Vieni fuori. Vieni fuori ciccio. Vieni fuori ciccio. Perché ha capito... Allora... Controlliamo. C'è qualcuno che sta salendo le scale o sbaglio? Spendo la porta! Cazzo! Che cazzo sta succedendo ragazzi? Ok ragazzi. Questa volta ce la siamo scampata. Abbiamo fatto un ottimo lavoro direi. Sono riuscito ad ammazzarne due ragazzi. Raggiungiamo la zona. Attenzione ragazzi. Questa volta riesco a vedere un po' meglio. Ok andiamo più avanti. Cazzo! Piazzone carica e grappolo. Carica e grappolo pronta. Atteniamo anche noi ragazzi. Sono stato individuato ragazzi. Il che non mi piace per niente. No! Sono le prime armi ragazzi. Sono... Con la recluta e comunque sia. Di fatto sono io una recluta. Perché comunque ci devo prendere un attimino la mano. Ho fatto più o meno una decina di partite. E piano piano speriamo di riuscire a fare qualcosa di buono. E... Niente ragazzi. Spoliciata manetta. E... Grazie a tutti del vostro ascolto. E ci vediamo al prossimo match. Ciao a tutti! Complimenti. Hai terminato la visione. Da questo momento hai dieci secondi per fare la tua scelta.